L'atto è stato presentato nel corso della riunione che si è rivelata un'occasione di confronto per fare il punto sulla situazione delle politiche a sostegno delle PMI e per accogliere proposte, suggerimenti o dubbi da tenere in considerazione nella discussione e modifica dell'atto in Parlamento europeo. Il Parlamento europeo si trova a discutere uno dei provvedimenti chiave della Commissione europea che è la proposta di un quadro di riferimento e di proposte legislative e regolamentari da parte dell'Europa a sostegno della piccola e media impresa europea. Si tratta di un documento quadro contenente una serie di proposte e di direttive che riguardano la modifica degli aiuti di Stato per le piccole e medie imprese, la costituzione della società privata europea che può consentire alle piccole e medie imprese di agire con lo stesso strumento in tutti i 27 Paesi dell'Unione europea, ad agevolazioni ridotte in materia di IVA, ad una direttiva che salvaguardi per esempio i pagamenti nelle transazioni commerciali che è uno dei punti, oltre ad alcune proposte riguardanti il credito alle piccole e medie imprese. Questa è una misura che effettivamente, come dice la stessa parola, è un affari piccoli, ma piccoli messi tutti insieme possono fare una grande forza d'urto. L'Unione europea si accorta di 24 milioni di microimprese, di cui 6 milioni in Italia, che lavorano tutto il giorno e che hanno bisogno di un'attenzione a parte rispetto al mondo della grande finanza e della grande industria. Ci sono delle proposte su questo documento, ci sono delle finalità, noi abbiamo proposto unitamente ad altre confederazioni della microimpresa, abbiamo proposto ulteriori approfondimenti, ulteriori cose che vedremo se adesso nel proseguio porteranno un'attenzione vera negli Stati membri dell'Unione. Questa attenzione con strumenti adeguati da parte dell'Europa è anche un'attenzione a sostenere un pezzo importante per la crescita economica europea.